Il Governatore della Regione Campania, l'On. Vincenzo De Luca, sarà a Battipaglia il giorno 20 dicembre, intorno alle ore 10 per l'inaugurazione della nuova sede INPS, che è una delle più importanti del Sud Italia. Sarà anche l'occasione per discutere con l'amministrazione e la sindaca Cecilia Francese dei lavori del Pio Europa, che sono in stato avanzato. Inoltre, si chiederà al Presidente della Regione, De Luca, di finanziare anche il sottopasso in Via Colombo.